e poi il libero Julian Zenger che ha avuto l'idoneità proprio nell'ultimo periodo Fabio Ricci nuovo arrivato, poi Robert Landis Simon, Yuri Romano in opposto e libero chiaramente e intanto tutto pronto per Davide Gardini al servizio, picchiaforte, tiene Recini in ricezione corre Brizard per Lucarelli e viene messo giù il muro di Padova degli Stati Uniti lui che è nato a Porto Rico al servizio, picchiaforte, mette in difficoltà Lucarelli che però tiene bene poi la pipe con le molle sotto i piedi per Recini, 5-4 ma l'occasione si presenterà intanto Falaschi, giocatore esperto, Brizard per il primo tempo si sente il suono del pallone sul... si carica il pallone, il nastro a smorzare poi Falaschi per una grande parallela l'olimpico hai detto bene, ha giocato sempre, ha giocato tanto Falaschi, Lucarelli, Brizard, vediamo cosa sceglie proprio Romano contenuto dalla difesa di Padova che si affida a Gabi Garcia e poi c'è un grande muro di Robert Landis Simon che chiude il primo set sul 25-21 anche fare male al servizio Cardenas tiene Falaschi ancora per il suo cubano che non passa, c'è il muro di Romano ancora Brizard al servizio in difficoltà Cardenas, il bagger di Gardini poi Gabi Garcia si autocopre Piacenza ma c'è la free ball per Padova non sfruttata vediamo Gabi Garcia picchia tutto a braccio carica il pallone rischia di toccare la linea tiene la difesa di Zenger, poi il pallone viene ributtato di là Brizard per il pallonetto a scavalcare ancora una grande difesa di Padova la rigiocata per Piacenza che non viene chiusa si gioca ancora a free ball Brizard per Ricci e stavolta va giù è stato uno scambio infinito ora il più positivo dei suoi la piazza ci arriva Cardenas, Falaschi per Gabi Garcia la difesa pancake di Scanferla poi la piazza ancora fa Recine non chiude il palleggio di Lucarelli la difesa di Brizard ancora non va giù il pallone ci prova Padova il palleggio di Lucarelli per Roma no, la difesa di Gabi Garcia Zenger per Cardenas che spreca tutto chiedendo troppo 25-19 ma perché? obiettivamente perché? Padova si vuole rientrare in mezzo intanto Coutini ha rimesso in campo Truocchio al limite con l'errore per pestare la linea attenzione al servizio del naturalizzato statunitense tiene Scanferla bene corre Brizard in due per Romano e c'è un grande muro di Cardenas per il tre pari Romano che sta secondo match point per Piacenza che battuta Plac vediamo cosa sceglie Zoppellari per Gabi Garcia che sbaglia ancora un pallone facile 25-16 e si chiude 3-0 vittoria importante per Piacenza forse anche fin troppo facile